ciao oggi ho provato ad acquistare questa scatola di colazione per l'aludea spregatito spregatito dove c'è carta come ci sono queste tre carte promozionali più questa qui gigante di coraidon poi c'è questa qui c'è lì spregati spregatito e fu che fu cieco fu cecio fu ecoco e in più c'è la spilla di spregatito bellina e dietro ci sono quattro bustine tramite se ho fortuna c'è una quinta nascosta ma non credo questa bellissima scatola sembra complicata ad aprirla questa è più dura e più doppia ecco l'imballaggio dove ci sono questa qui fu ecoco tutta luccicante anche con i bordi luccicanti fa un liquissimo difetto con un taglio non so se andrà a vedere una striscia no taglio da dietro no davanti si vede appena appena qui una striscia orizzontale bella però poi c'era quest'altra celeste d'acqua quaxili in base anche questa luccicante con i bordi luccicanti bellina anche questa questa non si nota nessun difetto e poi c'era questa carta spregatito bellina anche questa nessun difetto con i bordi sembra che luccicano e poi dietro c'era il quercode e in più questa bella carta gigante tutta luccicante di coraidon ex impatto salvaggio vino grido bella adesso provo a scoprire cosa trovo all'interno di queste quattro postine ma in più questa qui insomma la dimenticavo bellina verde chiaro verde scuro qua ce ne sono due spillette official pin più 22 pokemon madanchina di sicuro bellissima provo ad aprire queste quattro confezioni le postine colpo fusione tempesta argentata questa è bellissima bellissima spero di trovare lui astri lucenti e tempesta argentata provo ad aprire colpo fusione vado a scoprire cosa c'è all'interno spero qualche carta bella almeno una che non ho raggiunge la collezione la prima mi sa di averla ed è martine grubin rotom smargle colpo fusione già questo è un doppione che ho bello l'effetto dell'acqua e carvana una carta mancante morsa 10 numero 318 pokemon feroce altezza altezza lunghezza 0 0,8 m che sarebbe all'incirca o un metro che è impossibile o un centimetro non mi sa un metro peso 20 kg virgola 8 quasi 21 kg gomi questa è bella bellissima l'effetto oro luccicante questa mi manca mi mancava adesso mi manca e adesso ce l'ho bellissima anche questa latias latias colpo fusione è bella anche questa carta che mi mancava pokemon v max femmine e maschio bella carta energia vediamo il prossimo l'opinni l'opin fase 1 mi sa che non ce l'ho colpo rapido bella e fase 1 questa è la carta mancante c'è la base e la fase 2 ariyama si evolve da makuita colpo singolo questa mi mancava questa è una bellissima bustina e anche questa che in un altro video era uscita breilum però questa era di di schiena e fase 1 si evolve da sromish e alla fine c'è il quercode questa era la prima bustina provo ad aprire la seconda che è tempesta argentata provo a scoprirla sempre qualcosa di bello spero era già una carta che non ho spero di averla intravista bene spero che inizia bene e finisce bene e non ce l'ho il base è di durante 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 questa è una che manca mi manca vediamo la prossima emolga anche questa è una carta che mi manca da aggiungere alla collezione oh bellum anche questa che fa la ricerca dei diamanti o quarsi che questi coppia non so come si chiamano stonefish 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 questa è una carta che dovrò avere bella però dovrò averla wolfix anche questa è una bella carta devo cercare di trovare il pacco da otto bustine dove c'è l'immagine di wolfix con lo sfondo celeste bellissima questa soli solo sis con lo sfondo che baggato viola bellissima dentro la bolla bolla d'acqua o bolla di sapone bolla d'acqua mi sembra che non esiste eccola qui ma ho il fase 2 incinerio ar si evolve da torracat questa è un'altra carta mancante che sta tormento in cui riesce la bolla dal naso carta energia o 33 sicuramente saranno belle bellissima e fase 1 quella che mi mancava glalie si evolve da snorunt manca anche il fase 3 e fase 2 dovrebbe essere ancora più bella bianca e questa è anche una che mi manca fase 1 behiem behiem bellissima è forte questo tipo di sfondo che usano e alla fine cerco il code ora vado ad aprire la terza quella dove c'è Charmander è la 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 è la più grande molto cresciuta nella prima carta non so di averla o no me la ricordo no esatto di averla exev base questa c'è un doppione si ce l'ho impidimp altro doppione questa da parte magmar da mettere da parte riolu questa mi sa da aggiungere alla collezione bella la prossima anche questa burmi da aggiungere alla collezione kim karr ne ho una però non dovrebbe essere che fa l'effetto che luccica è tutta rossa dovrà avere l'altra gemella con lo sfondo qui diverso e a tran questa è un'altra carta che ho la metrata parte energia star mie un'altra carta doppione si evolve da star iu fase 1 7 di acqua fresca l'ultima è questa è buona si gilip carta mancante forse non è la carta buona o la seconda dipende e poi c'è quarkode ora è rimasta l'ultima bustina ed è tempesta argentata spero almeno una di bella è la prima che è bella che non ho spero che sia la bustina fortunata ed è sandile base bella che gioca come un bambino o bambine fenekin bella anche questa carta che manca mi manca warcroft questa è uscita poco fa bertum battoi un'altra carta che esiste nella collezione che ho questa mi manca stony jorner bella di pietra di sasso sassata presa mistera 60 più bella ps 130 ci dovrebbe essere un'altra gemella con questo sfondo diverso l'illigant di ishui o ishui è fase 1 si evolve da peti lill carina come carta danza e un'onda d'acqua sembra carta energia 8 e 3 ce ne sono professora laven non ce l'ho metang si evolve da berdum mi sa di averla ho una carta simile eh carta mancante sicura tocca sapex ps 120 questa è fase 1 si evolve da mare anie bella che sarebbe questa qui mariana è il base questa è una troppessata per fase 2 di sicuro e questo è quel code ed era l'ultima bustina almeno più di 5 carte anzi pure di più una quindicina almeno di carte buone sono uscite oltre a parte queste che sono in più di carta bella ad aggiungere vi ringrazio vi ringrazio sempre e vi ringrazio sempre vi ringrazierò sempre di aver visto i video passati questo e i futuri video che andrete a vedere vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie.